Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. Traffico al momento regolare sulla rete stradale ed autostradale della regione toscana. In Filippi Livi segnaliamo pioggia tra lo svincolo di Lastra-Signe e lo svincolo di Empoli-Ovest. Fino all'8 dicembre tratto chiuso per lavoro a chilometro zero dell'SP224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svincolo di via Quaglierina-Liburno, per frana al chilometro 79-875 in Filippi Livi. La stradale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte dell'Aventurina a causa di una frana. Vi ricordiamo di guidare con prudenza, nel rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità, anche in ZTL e nelle zone 30. Moversi Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!